Io continuo anche a dire una cosa in modo molto chiaro, ma l'abbiamo detto la Lega sin dall'inizio, noi non votiamo no per mandare a Casarenzi, noi votiamo no perché questa riforma costituzionale non ci piace. Noi sin dall'inizio, se vi ricordate, era all'inizio dell'estate del 2014, noi abbiamo detto immediatamente no in Senato, poi alla Camera, poi in Senato alla Camera, eccetera, eccetera. Quindi la posizione della Lega è no sui contenuti. Poi c'è stato un signore che si chiama Matteo Renzi, lo ricordo a tutti, che è stato lui a dire se perdo vado a casa. E quindi se lui dice se perdo vado a casa, accontentiamolo, non possiamo dirgli no rimani, noi non lo tiriamo per la giacchetta per rimanere. Però penso che l'analisi che è stata fatta, quella di un Renzi che va al Quirinale a darle dimissioni e Mattarella che gli dà un Renzi bis, magari a tempo, io penso che sia un'opzione plausibile. Anche io opterei. Non mi piace, è un'opzione che non mi piace, che non auspico, ma penso che possa essere un'opzione plausibile.